Pioneer DDJ FL-X4 Controller DJ Entry Level di casa Pioneer disponibile nel nostro negozio online. Con il nuovo DDJ FL-X4, Pioneer presenta un controller Entry Level a due canali compatibile sia con Rekordbox DJ che Serato DJ, che dispone di nuovissime funzionalità oltre a una maggiore connettività con l'aggiunta della possibilità di connettersi a dispositivi mobili. Vediamo ora in dettaglio le caratteristiche di questo controller. Partendo dall'area dedicata alla performance troviamo gli 8 pad retroilluminati dotati di 8 diverse funzionalità. La funzione Hot Cue consente di gestire fino a 8 punti di cue impostabili lungo la traccia. Il Pad FX1 consente di applicare 8 effetti editabili tramite l'interfaccia software. Il BeatJump permette rapidi spostamenti all'interno della traccia ad intervalli variabili da 1 a 16 battute. I sampler sono 8 per ogni deck e gestibili tramite software oltre ad essere sempre disponibili. La funzionalità Keyboard consente di modificare l'intonazione del brano partendo da un punto cue. Questo ti consente di utilizzare i pad al pari di una tastiera musicale. Una seconda serie di 8 effetti è applicabile tramite la funzione FX2. Il BeatLoop crea loop automatici istantanei dalla durata variabile. Infine il Key Shift che consente di modificare la tonalità dell'intera canzone. Nella parte alta dei deck si trovano i tasti per la gestione dei loop in stile CDJ con la possibilità di modifica manuale tramite jog e gestione della memorizzazione. Il mixer è il classico due canali con regolazione di guadagno ed equalizzazione a tre bande. La sezione dedicata al filtro viene ora dotata di Smart CFX che consente di aggiungere un ulteriore effetto alla funzione filtro con la possibilità di scelta tra svariati effetti abbinabili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altra novità è lo Smart Fader, una funzione che consente di automatizzare il passaggio tra due brani grazie alla sincronizzazione e l'automatizzazione della funzione filtro con l'aggiunta di un effetto eco sul brano in uscita. Grazie a tutti. Le jog rimangono dimensionalmente uguali a quelle dei modelli precedenti e consentono lo scratching e il bending laterale. L'area dedicata agli effetti del mixer ha la classica impostazione dei mixer DJM con tasto di attivazione, regolazione di intensità, possibilità di scegliere l'effetto dalla lista a disposizione, modifica dei parametri di quantizzazione e la possibilità di selezionare il canale su cui intervenire attraverso l'apposito selettore. Anche i pitch fader rimangono dimensionalmente simili alle versioni precedenti. La connettività a dispositivi mobili sia Android che IOS è consentita tramite Bluetooth. Immancabili i tasti di selezione per il preascolto con regolazioni dedicate. Per quanto riguarda le connessioni abbiamo a disposizione un'uscita mini jack per le cuffie di preascolto nella parte frontale mentre nella parte posteriore trovano posto le due porte USB di tipo C la prima per il collegamento al PC che funge anche da alimentazione e una seconda porta solo per l'alimentazione nel caso si utilizzasse la modalità Bluetooth. Selettore per la selezione tra mono e stereo nel caso di sistemi Android uscita master in RCA e l'ingresso jack con regolazione di volume dedicata al microfono. La DDJ FLX4 è un'ulteriore evoluzione del controller DJ Entry Level di casa Pioneer dedicato a chi si avvicina per la prima volta al mondo del DJ offre all'utente un prodotto che oltre ad implementare nuove funzionalità è compatibile con entrambi i maggiori software per il mixaggio ampliandone così di molto la possibilità di utilizzo. Inoltre la possibilità di connettarsi a dispositivi mobili tramite Bluetooth rende questo controller molto interessante soprattutto per il mondo giovane con la possibilità di utilizzo in qualsiasi contesto dinamico. Per il prezzo e per ulteriori dati tecnici visitate il nostro negozio online.